C'è uno strumento finanziario molto importante nel mondo della finanza probabilmente è quello più versatile che si può usare in più modi possibili si può utilizzare per cercare di ottenere rendimenti anche molto importanti oppure per coprirsi e ridurre il rischio in determinate situazioni sono strumenti quindi adatti sia a speculatori sia a investitori di lungo periodo sto parlando delle opzioni le opzioni sono bellissime ma hanno un unico difetto vanno capite strumenti come le opzioni sono delicate possono essere un fedele alleato oppure farci perdere l'intero capitale quindi bisogna fare attenzione in questo video voglio cercare di spiegarvele nel modo più semplice possibile in modo tale che le opzioni per voi non abbiano più segreti ciao a tutti ragazzi io sono Pietro e dopo il video sullo short selling che avete apprezzato tantissimo a grande richiesta oggi parliamo di opzioni prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi perché arriveranno altri video spiegazione di strumenti finanziari quindi se volete capirne di più se volete imparare iscrivetevi schiacciate sulla campanella così da non perdervi tutti i prossimi video ok partiamo con le basi le opzioni fanno parte di quella categoria di strumenti finanziari che viene chiamata derivati questo perché il loro prezzo deriva dal prezzo di qualcos'altro in questo caso un altro asset finanziario ci tengo a dire anche se l'ho già detto nell'introduzione è che i derivati in generale di cui fanno parte le opzioni sono prodotti generalmente più complessi di semplici azioni o obbligazioni o anche etf quindi se non conoscete questi prodotti che ho appena detto beh prima bisognerebbe partire da quelli il funzionamento di un'opzione è molto semplice nello specifico le opzioni sono dei contratti che attribuiscono al compratore di questi contratti quindi il diritto quindi nessun obbligo di acquistare o vendere l'attività sottostante quella da cui derivano il prezzo a una certa data chiamata maturity a un certo prezzo prefissato strike price in cambio di un pagamento di un premio ok spieghiamoli in modo più semplice in modo tale da non creare troppa confusione un modo più semplice di avvicinarsi alle opzioni è quello di vederle in un certo senso come delle assicurazioni nelle assicurazioni come quella dell'auto noi paghiamo un premio in modo tale che se dovesse verificarsi un determinato evento abbiamo un indennizzo abbiamo dei soldi indietro se questo evento invece non si verificherà il nostro premio che abbiamo pagato sarà interamente perso il premio quindi rappresenta la somma di denaro che dobbiamo pagare per coprirci o per guadagnare dal fatto che possa succedere in un determinato evento se per intenderci mi propongono di aggiungere alla polizza dell'auto la polizza cristalli a 50 euro se si rompe il vetro quando è in vigore la polizza verrà ricompensato con 500 euro faccio per dire se non succede niente i 50 euro sono persi per sempre con le opzioni funziona in un modo un po' simile nel senso che in questo caso l'evento non è che succeda chissà cosa ma è un movimento di prezzo immaginiamo per esempio un'azione la caratteristica principale delle opzioni è che consentono di amplificare quanto noi stiamo investendo realmente sfruttando un effetto di leva finanziaria questo perché comprare un'opzione su Apple e adesso vediamo all'atto pratico come funziona corrisponde a comprare a movimentare 100 azioni Apple quindi molta attenzione i due tipi di opzioni più usate sono le call e le putte servono rispettivamente per comprare e vendere un asset facciamo subito un esempio con un'opzione call compriamo un'opzione call su Apple con un prezzo strike a 170 dollari con scadenza a 90 giorni pagando un premio di 2 dollari mentre registro un'azione Apple sta a 140 dollari circa quindi a cosa serve questa opzione? tra 90 giorni quando sarà scaduta comprando questa opzione call avrò il diritto di comprare 100 azioni Apple a un prezzo di 170 dollari ad azione per potermi guadagnare però questo diritto devo pagare 2 dollari contate che ogni opzione vale per 100 azioni quindi 2 che è il premio dobbiamo moltiplicarlo per 100 quindi 200 dollari 200 rappresenta il prezzo che devo pagare per poter avere questo diritto tra 90 giorni qualsiasi sia il prezzo delle azioni Apple io avrò diritto di comprarne 100 a 170 dollari e questo concretamente che cosa significa? che se il prezzo delle azioni Apple sarà ancora sui valori attuali a 140 dollari per azione e comunque sotto i 170 dollari non avrà senso esercitare e utilizzare questo diritto chi mai vorrebbe pagare delle azioni più di quanto le si può comprare sul mercato? nessuno infatti in questo caso la mia perdita sarà totale e il premio che ho pagato in questo caso 200 dollari sarà interamente perso ma cosa succede se invece le azioni Apple salgono a 200 dollari 30 dollari sopra il prezzo dello strike quindi il prezzo a cui io ho diritto ad acquistare in questo caso io avrò la possibilità di acquistare 100 azioni a 170 dollari l'una ed è semplicemente fantastico perché normalmente sul mercato queste azioni vengono scambiate a 200 dollari quindi possiamo in qualche modo comprarle a sconto rispetto a quanto costano in questo caso noi ci ritroveremmo in mano un contratto molto utile e con molto valore quanto? se concretamente possiamo comprare 100 azioni a 170 dollari che ne costano 200 è uno sconto di 30 dollari ad azione moltiplichiamo per 100 quindi che il numero di azioni che possiamo comprare 30% fa 3000 e come noi può farlo chiunque possieda l'opzione noi infatti possiamo scegliere di esercitare l'opzione di comprare queste azioni Apple oppure di vendere questo contratto a 3000 dollari ricordiamoci però che quando noi abbiamo comprato l'opzione abbiamo pagato un premio che nel frattempo si è esaurito quindi dobbiamo andare a toglierlo ai 3000 dollari quindi 3000 meno 200 che era il premio pagato sono 2800 dollari 2800 rappresenta il nostro guadagno nel caso andassimo a vendere l'opzione se disegniamo su un grafico i profitti e le perdite che possiamo ottenere avremo un grafico come questo sull'asse orizzontale abbiamo il prezzo delle azioni Apple sull'asse verticale abbiamo i profitti o le perdite che abbiamo comprando questa opzione una volta raggiunta la scadenza se il prezzo sarà inferiore ai 172 quindi 170 più il premio pagato allora noi saremo in perdita perdita che al massimo sarà di 2% quindi 200 dollari che è il premio pagato se il prezzo invece è esattamente 172 saremo in pari in questo caso l'opzione sul mercato varrà di più perché noi le azioni le possiamo comprare a 170 invece che a 172 ma tenendo conto del fatto che abbiamo dovuto pagare un premio alla fine siamo in pari se invece il prezzo è superiore a 172 allora saremo in profitto di quanto? dipende possiamo esserlo di un dollaro o anche di infiniti dollari in base a quanto sale l'azione questo è un punto molto importante delle opzioni call e put che adesso vediamo che abbiamo delle perdite limitate al premio pagato ma dei potenziali rendimenti molto più alti passiamo adesso alle opzioni put che dopo questa spiegazione in realtà vi saranno molto più semplici da capire perché sono esattamente l'opposto le opzioni put consentono di vendere un determinato asset a un determinato prezzo in una determinata data esempio di prima ma al contrario compro una put su apple con strike a 170 a 90 giorni con un premio di 2 anche in questo caso un'opzione muove sempre 100 azioni del sottostante quindi 2% fa 200 dollari che è il premio pagato acquistando un'opzione put noi ci assicuriamo di poter vendere 100 azioni apple a 170 dollari a prescindere da quale sarà il prezzo il giorno in cui eserciteremo l'opzione questo significa che se l'azione a scadenza avrà un prezzo diciamo di 160 dollari noi comunque possiamo venderle a 170 guadagnando così la differenza in questo modo il nostro profitto sarà dato da 170 meno 160 uguale 10 dobbiamo togliere il premio quindi 2 che fa 8 per 100 800 un profitto di 800 dollari il grafico di un'opzione put è fatto così sopra i 170 non la vorrà mai esercitare nessuno questa opzione perché non avrebbe senso in più noi avremmo perso completamente il premio a 168 Apple è scesa un po' e quindi l'opzione sarà sì salita un pochino ma considerato il premio pagato noi siamo tendenzialmente in pari ma se il prezzo di Apple scende sotto i 168 allora l'opzione cresce moltissimo e noi saremo in enorme profitto quindi qui al contrario di prima abbiamo delle perdite limitate se l'azione sottostante sale e dei profitti illimitati teoricamente se l'azione scende quindi ovviamente chi compra opzioni put ha una visione ribassista di un titolo se io ho comprato una call a 170 e il prezzo sta a 200 chi è il pazzo che me le vende a 170 quando potrebbe venderle sul mercato a 200 semplicissimo chi sta dall'altra parte quindi chi è un venditore di opzioni le opzioni hanno sempre due parti chiamate in causa chi compra opzioni quindi chi compra call o put gli esempi che abbiamo fatto prima e chi le vende chi compra opzioni in gergo si chiama buyer chi le vende si chiama writer o seller facciamo anche qui un esempio vendendo un'opzione siamo la controparte siamo un po' come la compagnia assicurativa nell'esempio di prima quello della compagnia assicurativa noi siamo l'assicurazione che fa sottoscrivere la polizza quindi incassiamo i 50 euro per la polizza se non succede niente abbiamo incassato i 50 euro altrimenti dobbiamo sborsarne i 500 quindi vendendo un'opzione call abbiamo un profilo di rischio e rendimento ribaltato esempio di prima immaginiamo per semplicità di possedere 100 azioni apple e di vendere un'opzione call noi vendiamo una call a 170 dollari di strike con scadenza a 90 giorni il premio intascato è 2 dollari ad azione qualsiasi sarà il prezzo alla scadenza noi siamo obbligati sentitemi bene obbligati a vendere 100 azioni apple a 170 se il prezzo alla scadenza è di 170 oppure sotto nessuno eserciterà quale mai le opzioni chi mai le vorrebbe comprare da noi a un prezzo più alto rispetto a quale può comprarle sul mercato quindi intascheremo il premio e avremo fatto dei soldi se però attenzione il prezzo sarà sopra i 170 non importa noi siamo obbligati a venderne 100 a 170 che ci piaccia o no se le azioni salgono a 200 per intenderci sulla carta abbiamo fatto 3000 dollari di perdita e lo stesso vale per le opzioni put in questo caso vendendo una put noi siamo obbligati a comprarne 100 azioni proprio per questo motivo apro una piccola parentesi molto importante sulla vendita di opzioni assicuratevi di vendere delle opzioni solo se avete o il capitale sufficiente a comprare 100 azioni nel caso foste obbligati a farlo o le 100 azioni o più necessarie alla vendita di quelle azioni nel caso foste obbligati a farlo se non vi assicurate di questa cosa rischiate delle brutte sorprese quindi come vedete quello delle opzioni è un gioco a somma zero se c'è qualcuno che guadagna magari perché ha comprato una call c'è sempre qualcuno che perde perché ha venduto una call le opzioni sono uno strumento molto interessante io in questo video volevo solamente introdurlo ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma già sono sicuro saremo andati lunghissimi quindi magari approfondiremo più avanti ho tralasciato infatti tantissime cose come le greche che si utilizzano per prezzare e per misurare la volatilità o l'andamento delle opzioni molto importanti per chi le tratta l'idea però in generale che vorrei farvi passare e che sono degli strumenti utili a coprirsi quindi da determinati eventi che per noi sarebbero sfavorevoli oppure al contrario per scommettere in modo in leva su determinati eventi giusto per farvi un esempio esiste una strategia di opzioni che vi consente di guadagnare se il prezzo rimane in un certo range allo stesso tempo non vorrei illudervi facendovi pensare che le opzioni siano il sacro graal della finanza e che una volta scoperte sarete in grado di diventare milionari in tempo due mesi non pensatelo mai altrimenti si finisce per considerare le opzioni alla stregua della roulette cosa che non sono assolutamente sono uno strumento molto delicato interessante se sapete che cosa state facendo ma non paragonatelo al casino se proprio avete deciso che volete buttare 100 euro non fatelo con le opzioni perché non è divertente è noioso quindi piuttosto se volete buttare dei soldi andate al casino prima di chiudere alcuni si staranno chiedendo Pietro ma dove si comprano le opzioni molto semplice sui broker però siccome sono uno strumento non adatto ai principianti non ci sono su tutti i broker soprattutto su quelli più blasonati quelli pensati per un pubblico entry level il broker che uso io per il mio portafoglio attivo e per le operazioni speculative è Interactive Broker un broker americano con base anche in Europa e lì ci sono tutte le opzioni americane se voleste approfondire Interactive Brokers questa non è sicuramente la sede ma vi lascio qui sotto in descrizione un link dove ho fatto una recensione qua su YouTube e anche al sito così potete documentarvi vedere tutte le informazioni utili se volete vedere invece altri video sulle opzioni fatemelo sapere lasciando un bel mi piace così io so che questi video vi interessano e iscrivetevi l'ho già detto all'inizio ma lo ripeto per vedere tutti i video che usciranno per oggi è tutto io vi saluto e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.